Quando si parla di sovraffollamento delle carceri, è sempre bene partire dai dati. In Toscana, a fronte di 3071 posti disponibili, i detenuti sono 4173. Un dato che è stato ricordato dal presidente della sezione regionale della Lega Italiana per i diritti dell'uomo, Olinto Dini, che ha organizzato a Palazzo Bastoggi un convegno sull'emergenza carceri. Un'emergenza che ormai non può più essere definita tale, visto che si trascina da anni. Neppure il Parlamento è stato in grado di affrontare le ragioni del sovraffollamento, che non è un fatto improvviso e neppure un fenomeno naturale, come un terremoto. No, è una costante dovuta alle leggi criminogene che hanno fatto sì che il carcere si sia trasformato in una discarica sociale. Una discarica sociale contro cui ha puntato il dito anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo e che in questa fase di crisi economica vive una situazione ancora peggiore. Da un lato, il taglio del 75% dei fondi destinati al lavoro in carcere ha di fatto reso impossibile qualsiasi attività durante la detenzione. Dall'altro, l'identikit del detenuto si caratterizza sempre più precisamente. Piccoli spacciatori, consumatori di sostanze stupefacenti, tossicodipendenti, stranieri, poveri, persone con disturbi psichiatrici. La gran parte della popolazione detenuta è fatta da questa umanità debole e sofferente. Se si pensa poi che già all'inizio del Novecento Filippo Turati definiva sollicciano il cimitero dei vivi, si capisce quanto poco sia stato fatto da allora.